Sono episodi antipatici, prendo atto che c'è stato anche circa 10 giorni, ma la convenzione che noi abbiamo col Cassio è una convenzione molto ampia che riguarda tantissimi tipi di attività, quindi non è che si possa fare di tutte le erbe un fascio e non si può, diciamo così, rispetto a un episodio, pensare che ci sia un'intera organizzazione rispetto alle varie dinamiche anche di attività che svolge, che debba essere in un qualche modo indicata come esempio negativo. È un episodio brutto, è un episodio negativo, mi auguro che non capiti più, mi auguro eventualmente, ripeto, non conosco, ne prendo atto, lo rispetto, credo che sia, diciamo così, quello che le autorità hanno deciso rispetto all'episodio in sé, ma questo non vuol dire che rispetto alle attività culturali, le attività di approfondimento, di informazione, noi dobbiamo far finta che non ci siano perché c'è stato un episodio.